oggi giro questo breve video per mostrarvi come io conservo correttamente i semi di pomodoro quando abbiamo dei pomodori che non sono ibridi come in questo caso che è un piannolo del vesuvio prelevare e conservare correttamente i semi di pomodoro ci permetterà l'anno successivo di seminare nuove piante che genereranno gli stessi frutti di quelle genitrici vediamo come si fa una volta raccolti i pomodori perfettamente maturi li andremo a tagliare in due con l'aiuto di un cucchiaino oppure spremendoli andremo a prelevare i nostri semini rileviamo con pazienza tutti i semi che ci interessano chiaramente i pomodori potremo andarci lì a mangiare terminata questa operazione poniamo i nostri semini all'interno di un passino in modo che poi li passiamo sotto il getto dell'acqua cercando di eliminare più possibile la parte di pomodoro e polpa attaccata ai semini ora mettiamo i nostri semini all'interno di un barattolino di vetro ed aggiungiamo dell'acqua una volta aggiunta l'acqua al barattolino lasciamo macerare per 7 10 giorni mettendo sul barattolino un tovagliolino in modo che con questa macerazione il semino si priverà di tutte quante le particelle di pomodoro che sono attaccate eccoci qua è passata circa una settimana come possiamo vedere la macerazione è avvenuta quindi i nostri semini si sono come vedete distaccati dal resto della polpa non ci resta altro che filtrarli con un colino ora vediamo come se c'è qualche semino in superficie toglietelo perché sarà quello che non germinerà passiamo i nostri semini all'interno di un colino eccoci qua come potete ben vedere dopo questa macerazione la polpa attaccata ai semini si è completamente tolta ora non rimane altro che disporre questi semini su un foglio di scottex ed attendere che si asciugano eccoci qua allarghiamo i nostri semini su questo tovagliolino li mettiamo in un posto arieggiato ma non direttamente al sole aspettiamo che si secchino completamente passate circa tre ore i vostri semini saranno abbastanza asciutti ora procederemo a togliere con l'ausilio delle pinzette da ciglia i semini questi qua neri perché questi non germineranno e come vedete con la macerazione di 7 10 giorni i vostri semini non hanno quella cuticola che li appiccicarà di loro sono tutti abbastanza sciolti procediamo con l'eliminazione dei semini questi scuri e poi metteremo i nostri semini in un barattolino di vetro e li riporremo al sole per farli finire di seccare è terminata l'operazione di separazione dei semini scuri da quelli chiari ora li riponiamo nel barattolino esponiamo il barattolino con i nostri semini per almeno altre tre ore al sole diretto o comunque finché non saranno completamente secchi e quindi privi di umidità sono passate circa quattro ore i nostri semini sono ben secchi si sentono che scuotendo il barattolo tintinano tra di loro comunque mettendoli sotto i denti scrocchiano ora io li ripongo in un tovagliolino o un pezzetto di carta diciamo igienica li avvolgo ben bene e li chiudo con con del nastro isolante in questo modo l'eventuale piccola traccia di umidità che c'è e andrà nella nella carta e poi li ripongo una volta ben sigillati all'interno del barattolino inserisco il tapp ermetico e catalogo quindi metto un'etichetta con il nome della pianta genitrice e la data in cui ho prodotto i semini così si mantengono tranquillamente per circa due anni grazie arrivederci ed al prossimo tutorial